C'è un tratto di familismo nella gestione del potere di Giorgia Meloni e che segnale politico sarebbe? Sarebbe necessario, avendo il tempo, inquadrare questo fenomeno in un contesto più generale. Il familismo, il nepotismo, eccetera, è caratteristico di organismi politici nei quali per vari motivi non avviene formazione di classe dirigente. Nel partito comunista, nella democrazia cristiana, nel partito socialista sarebbero quasi incomprensibili i fatti di questo genere, laddove la selezione di classe politica avviene con meccanismi di vera competizione sul piano della forza elettorale e sul piano anche della forza culturale, eccetera. Quindi il familismo è un sostituto inevitabile in partiti che non sono tali, in partiti che funzionano per cooptazioni, in partiti in cui non c'è classe dirigente, in cui non si è formata classe dirigente, sono processi inevitabili. Il leader, partiti che si formano soltanto sulla leadership carismatica di uno solo, idem nel partito democratico, è impossibile che si formino gruppi dirigenti e quindi il leader necessariamente si rivolge a chi? A cosa nostra, tra virgolette, alla sua famiglia, al suo contesto familiare, è inevitabile. Ma è un segnale di forza o di debolezza, professor Cacciari? Perché chiaramente Giorgia Melone si sente più forte circondata dai suoi. No, lei essendo persona intelligente saprà benissimo che questo è debolezza. È debolezza quando tu devi fidarti dei tuoi familiari e non hai invece un gruppo dirigente in cui ci sia quello di cui ti fidi in economia, quello di cui ti fidi in scienze sociali, quello di cui ti fidi in politica estera, eccetera, eccetera. Sono tutti segnali di debolezza, ma di debolezza estrema del quadro politico complessivo, di debolezza estrema della politica e soprattutto della politica italiana. È così, la politica italiana...